Buonasera, seconda edizione del Tg Riviera dei Fiori. Apriamo il nostro telegiornale purtroppo con un altro incidente mortale. Questa mattina sull'autostrada dei Fiori all'altezza di Sanremo Ovest accanto ad Arma di Taggia ha perso la vita una ragazza di 24 anni travolta da un mezzo pesante che poi non si è fermato a soccorrerla. I particolari nel nostro servizio. La polizia stradale indaga per risalire al mezzo che all'alba di oggi ha investito Ila Paolino, la giovane di 24 anni trovata morta sull'autostrada dei Fiori all'altezza del viadotto Gozzo tra Sanremo Ovest ed Arma di Taggia in direzione del capoluogo Ligure. Stando ad una prima ricostruzione del terribile incidente potrebbe essere stato un mezzo pesante ad aver investito la ragazza che sembra abbia raggiunto l'autostrada a piedi da una stradina sterrata, confinante. Al momento si pensa anche all'ipotesi del suicidio anche se non viene esclusa nessuna pista. Il mezzo che sarebbe fuggito subito dopo l'investimento è ricercato in tutta la regione ma gli inquirenti hanno chiesto anche la collaborazione dei colleghi fuori Liguria. Il luogo dell'incidente non è coperto dalle telecamere di servizio della A10 e quindi non ci sono le immagini dell'investimento. Saranno visionati però i filmati delle altre zone per capire con precisione quali siano i mezzi transitati in quel momento. E' stato il personale dell'autostrada dei Fiori a dare l'allarme alla centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un'automedica e un equipaggio di Sanremo Soccorso che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. I tecnici della A10 invece hanno provveduto a disciplinare la circolazione insieme agli agenti della Polstrada. La madre della giovane morta stamani è stata ricoverata in ospedale a Sanremo con un forte stato di shock, non appena presa la notizia della morte della giovane figlia. Si esogeranno domani nella chiesa di San Rocco a Sanremo le eseque di Angelo Galloni, il 51enne di Sanremo morto ieri mattina sulla sua moto. Si è scontrato contro un camion che faceva manovra tra riva e arma di taggia in prossimità del ponte sull'autostrada. Nel caso si stanno occupando gli inquirenti per poter risalire l'esatta dinamica dell'incidente. Le eseque, vi hanno detto, si svolgeranno nella chiesa di San Rocco a Sanremo a partire dalle 16.30. Continuano le indagini per risalire a chi ha spedito la busta contenente alcuni proietti calibro 9 indirizzata a Giovanni Bruno, uno dei tre commissari prefettizi ventimigliesi, intercettata al centro smestamento delle porte centrali a Roma venerdì scorso. Per il momento nessuno dei commissari è stato messo sotto scorta. Il titolare dell'inchiesta alla procura di Civitarecchia ha aperto un fascicolo e la prefettura d'Imperia dal canto suo ha aumentato la sicurezza attorno alla commissione. Non è ancora chiaro né da chi provenga la busta né il perché del gesto. Potrebbe trattarsi di un'intimidazione contro l'attuale attività del commissario svolta insieme ai colleghi Luciana Lucianò e Antonio Lucio Garuffi, il triunvirato che governa Ventimiglia dopo lo sceglimento del Consiglio Comunale. Il processo per l'isola ecologica di Riva Ligure, che aveva visto finire sul banco degli imputati e anche il sindaco in carica, Franco Nuvoloni, è terminato con la sua assoluzione la riabilitazione di amministratori pubblici e tecnici. Nel corso dell'udienza il giudice ha assolto il primo cittadino perché il fatto non costituisce reato. Oltre a Nuvoloni sono stati assolti Paolo Basso, responsabile dei servizi tecnici del Comune, Luigi Bianchi, presidente del CDA della Aimeria Ambiente, società partatrice del servizio rifiuti, Susanna Ingaragiola e Claudio Demma, amministratore unico della società Italia 90. E parliamo del convegno in sistema penale al tempo della crisi, organizzato per domani nel Teatro Centrale di Sanremo dalle 9 alle 18.30. Lo presenta l'avvocato Bruno Di Giovanni. Il convegno è fissato venerdì prossimo 22 giugno al Cinmateatro Centrale. Avrà il titolo Sistema Penale al Tempo della Crisi ed è articolato in due sessioni, al mattino sui problemi della lotta alla corruzione e al pomeriggio sulla situazione di sovraffollamento delle carceri. Chi saranno i relatori? Allora, al mattino vi sarà il professor Seminara dell'Università di Pavia, che parlerà sulla riforma dei reati di corruzione e di concussione. Seguirà il professor Paolo Pisa dell'Università di Genova, che parlerà sulla corruzione di soggetti privati e il traffico di influenze. Poi dopo la professoressa Alessandra Rossi dell'Università di Torino, parlerà sui problemi e prospettive delle false comunicazioni sociali, cioè del falso in bilancio. E questo è il programma della mattinata. Al pomeriggio invece ci sarà il professor Franco della Casa, ordinario di diritto processuale penale a Genova, che parlerà sul sovraffollamento carcerario. Il professor Davide Petrini, straordinario di diritto penale di Torino, parlerà sulle misure alternative alla detenzione. Il professor Marco Pellissero dell'Università di Genova parlerà sul problema degli ospedali psichiatrici giudiziari, dei quali è previsto entro breve la dismissione, cioè la chiusura, i problemi che si creeranno in seguito. E poi vi saranno anche gli altri interventi, tra cui il magistrato dottoressa Verrina del Tribunale di Sorveglianza di Genova, che parlerà anche lei sulle misure alternative. E la dottoressa Milano d'Aragona, direttrice del carcere di Genova Ponte X, che parlerà sulle nuove linee della politica penitenziaria. e vi saranno anche altri contributi, compreso quello di psichiatri, sul problema degli infermi di mente che hanno commesso dei reati. Perché è importante questo convegno, questo confronto? Noi abbiamo intitolato questo convegno il sistema penale al tempo della crisi, perché riteniamo, e non solo noi, che il fenomeno della corruzione, che pare porti a costi per la società di 60 miliardi l'anno, non è più sopportabile da parte della nostra economia in un momento nel quale si vuole, diciamo, la ripresa. E nello stesso tempo le diminuite risorse pubbliche non devono far dimenticare il problema delle carceri e devono spingere a trovare soluzioni di pene diverse dal carcere per tutti i soggetti che non sono veramente pericolosi. E noi abbiamo organizzato questo convegno perché vogliamo portare un contributo alla discussione sia in ambito scientifico che anche nei confronti della classe politica e del Parlamento, perché queste riforme, che sono in oggi all'esame delle Camere, siano il più possibile, diciamo, utili allo scopo e il più possibile organiche in modo da conseguire dei benefici per tutta la cittadinanza. L'estate delle novità. Cambiamo decisamente argomento per il casino di Sanremo. Fische e Cips punta su una serata speciale. Una particolare promozione con 15 euro si cena e si ha un bonus di 20 euro per i giochi da tavolo. funziona in questo modo. Chi non è ancora entrato nel 2012 nelle sale del casino ed è possessore della special guest card. Si ritira esibendo un documento direttamente al segretariato di porta principale nel casino. Può pagare 15 euro per la cena, sapore un piatto principale, un dolce e un drink nell'elegante food corner di sala Gio Ponti. riceve poi un secondo coupon convertibile in fische promozionali per i giochi da tavolo del valore di 20 euro e quindi può infidare la DEA bendata. La promozione è valida dal 29 giugno sino al 31 agosto. E approda questa sera in Consiglio Comunale ad ospedaletti la convenzione per la concessione di un contributo da 30.000 euro per il centro di raccolta differenziata presente nella città delle Rose nei pressi del cimitero. Un contributo rilevante che insieme ai 41.000 euro che stanzierà l'azienda che gestisce il centro consentirà al Comune di migliorare il centro di raccolta. E veniamo alla pagina sportiva. Venerdì, sabato e domenica allo Stadio Comunale di Sanremo si svolge il 24esimo torneo internazionale di Cancio Over 40. Primo trofeo bandiere bianco-azzurre. In servizio. Questo è il primo torneo bandiere bianco-azzurre. La formula è la stessa degli altri anni. Questo è il 24esimo, però è la stessa formula. Quindi abbiamo 12 squadre. Ci sono tre squadre per ogni girone. La prima di ogni girone passerà il turno e faranno poi le semifinali e le finali. Torneo dove sicuramente il nostro intento principale è quello sì del divertimento, però noi l'abbiamo sempre fatto con uno scopo ben preciso che è quello di portare il più possibile turismo a Sanremo. facciamo circa mille presenze e si può constatare perché c'è gente che arriva già tra oggi e domani arrivano e vanno via il lunedì. Sicuramente turismo e calcio questo lo dobbiamo anche al Comune di Sanremo che ci permette sia di giocare sul campo comunale insieme alla Virtus e ci permette anche di essere con un piccolo contributo nel calendario delle manifestazioni e con questo piccolo contributo e con il nostro sforzo di tutti quanti riusciamo anche quest'anno ad avere il torneo sotto legge da FIGC quindi con arbitri federali il che è importante soprattutto da un punto di vista dei giocatori che vengono da fuori perché ci sono anche giocatori ex di Serie A, B e C come ben sapete senza fare tanti nomi ma i soliti vengono sempre come Terracenere, Ferrario, Morini vengono sempre. Siete anche voi gli organizzatori quindi quest'anno? Sì, quest'anno sì però per me è una triplice soddisfazione avere questo torneo primo come cittadino di Sanremo perché come dicevano i fratelli Goffredo è un veicolo promozionale importante per Sanremo secondo a livello come presidente di società della Virtus Sanremo perché quest'anno l'organizzazione quindi è deputata a noi e terzo anche proprio a livello personale perché è un torneo al quale io negli anni precedenti ho partecipato e quindi siamo ben felici di organizzare e ospitare questa manifestazione. Bene, siamo in chiusura del nostro notiziario adesso abbiamo il consueto appuntamento con Achille Pennellatore e il meteo di Guria quindi abbiamo gli spazi a approfondimento con noi l'ingegner Gianni Rolando amministratore unico di Amaie l'azienda che si occupa del settore idrico ed elettrico del comune di Sanremo parleremo appunto dell'azienda parleremo di ato idrico e del futuro del sistema integrato e dell'acqua pubblica di tutto questo il nostro spazio di approfondimento adesso vediamo che tempo fa con Achille Pennellatore grazie di rimanere con noi Signori e signore a tutti buonasera la pressione tende a rialzarsi si sta riaffermando un campo di alta pressione dopo il cedimento che c'è stato ieri per il transito di una debolissima perturbazione che ormai la vediamo sta andando ai errorari di bei temporali il nord-est dell'Europa ora altri corpi nuvolosi passano a nord delle Alpi ce ne sarà uno domani che più transiterà a nord della Liguria però potrebbe dare qualcosa di marginale sulla parte più settentrionale della Liguria quindi l'Alto Savonese e l'Alto Genovesato ma proprio di fenomeni molto localizzati per il resto alta pressione vediamo la prima cartina domani venerdì alle ore 14 ecco qui questo fronte che vi premeva farvi vedere domani traslerà sulla pianura padana a nord del Po avremo qualche temporale anche a sud del Po è probabilmente qualcosettina qua ma lo vedremo fra un po' nella previsione guardiamo adesso la cartina successiva che è quella di dopo domani sabato tutto si allontana ed ecco che si afferma l'anticiclone delle Azzorre sulle nostre zone e si fermerà per parecchio tempo senza altro io con la previsione questa sera vado fino a martedì o mercoledì terrà ecco possiamo vedere adesso la cartina della previsione per domani vedete sulla costa sia del Ponente il centro della riviera di Ponente la zona di Savona per intenderci la riviera delle Palme che ci tengono tanto a sentirselo dire è giusto che sia così qualcosa anche sul Tiguglio di cielo poco nuvoloso e sullo Spezzino qualche nuvola in più vedete sulla zona di Genova ma si tratta di nuvole basse un po' di Macaia un po' di strato cumuli dovute all'umidità del mare però in montagna avremo qualche cumulo senza precipitazioni sia sulle Alpi Maritime che sull'Apenino del Levante mentre un po' di instabilità sull'Alto Savonese Basso Piemonte la zona di Ovada potrebbe fare un temporalino di passaggio niente di più temperature stazionari su questi valori che stiamo registrando in questi giorni solo in diminuzione se ci sarà qualche fenomeno di instabilità qui dove ci sarà questo fenomeno il vento ancora su dove sta a largo ma sotto costa non ce n'è più quindi poco mosso il mare sul Ponente ancora mosso una residua onda lunga sul Levante molto mosso a largo perché ci sarà molto più vento per la tendenza ulteriore da sabato domenica lunedì e fino a martedì e mercoledì il tempo sarà buono solleggiato caldo ma senza strafare senza esagerare la visibilità buona o discreta per la foschia poco vento meno male che ci saranno le brezze termiche a dare un po' di refrigerio nei pomeriggi grazie ci vediamo domani